E il nemico in questo punto è Putin. Ma c'è un altro discorso, inviare le armi, pone la domanda che oggi ha posto Papa Francesco nella giornata, la Domenica delle Palme. Purtroppo lo debbo citare, volentieri da credente, ma lo farei anche da laica, no, da laica sì, da non credente, perché che cos'è la vittoria? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Che cos'è la vittoria? Lo sterminio di un popolo? Pissare una bandiera sulle macerie? Perché questo è oggi, Zelesky ha detto, che lui si siederà con Putin dopo l'operazione nel Donbass. Significa altre migliaia di morti. Allora, aiutare l'Ucraina significa aiutarla con la politica, con la negoziazione. Ma il problema è che non c'è la politica. In Italia non pervenuta, ma non c'è neanche in Europa. Caterina Nesterenko, poi... Non c'è la politica, ma non c'è la politica.